Un ritorno per lui, reduce da un'annata non semplice, infortunio, operazione, veramente un qualcosa da dimenticare. Però parlando con il medico già in ritiro a Caccia mi disse che avrebbe bruciato le tappe proprio per questa voglia di scendere subito in campo. Quindi un recupero repentino e oggi finalmente ha dimostrato di essere in forma. Ti serviva solo minutaggio nelle gambe perché la condizione c'è. Sì, sono contento di essere andato a giocare, sono quasi nove mesi. Oggi era più un test per vedere come rispondeva sia il fisico che il tendine e tutto. È andata abbastanza bene, sono abbastanza soddisfatto. La condizione fisica ancora non è ottimale, però piano piano stiamo recuperando. Applausi per te da parte di tutto il pubblico e il segnale che i tifosi la gente ti aspettava. No, infatti sono stato felicissimo quando sono uscito dal campo e ho sentito tutti quegli applausi. Quasi non me li aspettavo, sono onesto. È cambiato qualcosa rispetto all'anno scorso? Era un amichevole 2-1 il risultato finale? Beh, l'anno scorso è stata un'annata un po' particolare, sfortunata. Quest'anno abbiamo fiducia dei nostri mezzi. Siamo anche magari più tranquilli mentalmente che forse è la cosa che un po' ci è mancata l'anno scorso. Diciamocelo, il tuo ritorno in campo contro una squadra che tu ami? Sì, la squadra che mi ha lanciato nel grande calcio e sono contento che abbiamo vinto. Senti, questa Serie B, insomma una nuova avventura, dove può arrivare secondo te questo benevento? Insomma, il direttore Foggia ha lavorato tantissimo, ha dovuto rifare molto, no? Perché ci sono state tante partenze. Noi non ci nascondiamo, ci aspettano tutti come squadra. Siamo tra le favorite per la promozione, però come tutti sanno è un campionato particolare. Non sempre le favorite salgono e c'è sempre la sorpresa. Noi puntiamo a fare tutte le partite dando il meglio, il 100% cercando di vincere. Ultimissima, come condizione hai detto che stai bene, hai risposto bene, saresti già pronto eventualmente per Venezia o hai bisogno ancora di tempo? Per quanto riguarda il minutaggio. Sono onesto, per Venezia ancora non penso. Perché comunque ancora un leggero fastidio c'è quando gioco, quando faccio le cose. Secondo me è ancora un mesetto. Poi non lo so, magari in questa settimana va bene. È una cosa talmente particolare che non so darne neanche io delle date precise per rientro a pieno. Grazie. Grazie a voi.